Il riavvicinamento Anticipazioni americane, il riavvicinamento Anticipazioni Beautiful, puntate americane, Bill picchia Liam. Le vicende che hanno per protagonisti i personaggi di Beautiful, a volte, sono inverosibili. Ciò nonostante la soppa americana continua ad avere un grande successo sia in Patria che in Italia. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Bill sarà costretto a prendersi un'aspettativa dalla Spencer Publications. Come mai? Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, ha appena fatto la sua comparsa la nipote di Sally Spectra che vuole riportare l'azienda di famiglia agli antichi bagliori. Il suo piano verrà ostacolato da Bill Spencer che vuole a tutti i costi l'edificio in cui sorge la Spectra Fashions. Negli episodi americani è già andata in onda la puntata in cui Bill ha fatto appiccare un incendio alla Spectra. La povera Sally è finita anche in ospedale. Liam, che ha scoperto tutto e che, nel frattempo, è stato nominato dal padre amministratore delegato della Spencer Publications, costringe Bill a prendersi un'aspettativa dall'azienda se non vuole rischiare di finire in carcere. Spencer accetta malincuore ma prima di andare via sferra un pugno in pieno volto al figlio e minaccia ritorsioni. Steffi teme che Bill e Liam non faranno mai più pace. Beautiful, episodi americani, Brooke e Ridge di nuovo insieme? Come se non bastasse, Sally è stata anche lasciata da Thomas che ha deciso di tornare da Caroline e dal figlio Douglas. Ma quando tutto sembra perduto, Sally riceve una telefonata di Liam che la convoca nel suo ufficio. Il giovane Spencer vuole concedere una seconda possibilità a Sally, vuole restituirle l'edificio della Spectra. Bill che si sente tradito da Liam, mette la pulce nell'orecchio a Steffi, secondo lui il figlio prova qualcosa per Sally. Steffi si rifiuta di credergli. Brooke e Ridge tornano di nuovo insieme? L'uomo tenta l'ennesimo riavvicinamento ma la Logan è ancora troppo ferita per il tradimento ricevuto. Brooke si è presa una pausa dal lavoro per stare vicino a Billy in un momento così delicato per lui. Dopo il piano rischioso della Redi Viva Sheila Carter cosa accadrà negli episodi americani di Beautiful? Intanto l'appuntamento con le puntate italiane della Sop Beautiful è da lunedì al sabato alle 13.40 circa su Canale 5. Grazie per la visione!